La seconda mattinata della rassegna di teologia Dopo aver approfondito dal punto di vista teologico Proprio della Genesi, la creazione Oggi vediamo come l'uomo ci sta in questa creazione Come la abita, come la vive, come l'ha portata avanti Se l'ha portata avanti, come ci ha riuscito Grazie professore per essere con noi Grazie a voi Dunque diciamo che il tema che affronto in questo seminario È quello un po' della casa Che va perdendo i connotati che aveva in passato E dunque che è stata sostituita più Misura maggiore del concetto dell'abitare Oggi diciamo che è fondamentale parlare più dell'abitare che della casa Questo perché? Perché le vecchie metafore Ad esempio la casa nido O la casa guscio Che erano la seconda protettiva dell'essere umano La prima è il momento della creazione, dell'educazione Della formazione anche dei più giovani Queste due metafore per spiegare l'abitare moderno Non sono più così resistenti Non funzionano tanto come potevano funzionare in passato Perché oggi il nostro abitare non è un abitare concentrato in un'unica casa Ma è molto distribuito, è molto spalmato, è molto dislocato E sono numerose le conseguenze, ma anche le cause di questa dislocazione Che si combinano tra di loro molto velocemente Le nostre famiglie non sono più robuste come in passato Si divorzia, ci si divide Per cui anche le nostre case si moltiplicano Quindi tutto il nostro repertorio mnemonico Tutta la nostra memoria che in passato tendenzialmente era concentrata in un luogo Adesso è distribuito E poi che cosa abbiamo? Molti di noi lavorano in località diverse da quelle in cui risiedono C'è un studioso austriaco che si occupa proprio di queste vite multilocalizzate Nel senso che in una città abbiamo una casa Poi allo stesso tempo abitiamo da un'altra parte Oggi è uscito un articolo sul Corriere della Sera Che mostra quanti soggetti, quanti individui appartenenti alle stesse famiglie Vivono in case diverse Decidono di non frequentarsi più un tanto Quindi anche questo è un tema fondamentale Cioè l'abitare è molto distribuito La tecnologia ci aiuta moltissimo a distribuire il nostro abitare in più punti Pensiamo, quando abbiamo con noi un computer Ci sentiamo a casa nostra ovunque Perché possiamo portare il computer Qualsiasi luogo diventa casa nostra Qualsiasi luogo diventa una casa, un posto di lavoro E quindi è un tipo di distribuzione molto spalmato del nostro abitare Questo cosa significa? Che le vecchie metafore Quindi la casa nido, la casa rifugio Non funzionano tanto più come in passato Perché abbiamo imparato a moltiplicare i nostri luoghi dell'abitare E' più l'abitare che la casa E quindi il fatto che noi siamo così dislocati Viviamo in realtà diverse Che a volte possono anche magari entrare in conflitto fra di loro E' un'opportunità oltre ad essere una difficoltà o no? E' difficile, molto difficile da gestire E' molto difficile E' molto complicato come dire Da un lato riuscire a fare della casa Il luogo della formazione, dell'educazione Delle generazioni più giovani dei figli E nello stesso tempo avere sempre al centro come obiettivo noi stessi Una società molto individualizzata Per cui la nostra individualizzazione ci porta ad essere ovunque O in più posti Questo naturalmente allenta di molti legami comunitari E legami sociali E sono due momenti che sono un po' in contrapposizione Che determinano una forte tensione Che è uno quello del desiderio di essere in più punti Ma dell'altro la necessità di ricostruire Di riconsolidare la comunità E questi due elementi Che sono tra di loro contraddittori Presuppongono una forte tensione Nel tenere insieme questi due momenti E qui parliamo più che altro di abitare Delle sovrastrutture Cioè di abitare le città Parliamo magari del rapporto che l'uomo ha con il creato Con il mondo Se ce l'ha ancora O se con tutta questa delocalizzazione non lo abbia perso Perché a furia di vivere tra taxi, treni, aerei e case Nel 2006 è stato il primo anno in cui La percentuale di popolazione che si concentra nelle città Ha superato il 50% Prima di allora era maggiore la popolazione nel mondo Sto dicendo che viveva in aree rurali E quindi c'è una tendenza forte all'urbanizzazione C'è una tendenza forte al vivere in città E questo effettivamente ci porta Ad esempio come dice Simmel Che è un noto sociologo Ad avere come dire un tipo di atteggiamento Anche blasé Un tipo di atteggiamento cioè aristocratico Distaccato, un po' snob Nei confronti della numerosità degli stimoli metropolitani E quindi è un uomo che si chiude sempre più in sé Proprio per sopportare l'urbanità E quindi è un individuo che ha sempre minore capacità Di relazionarsi con il contesto Passa nei luoghi ma non si ferma La sopravvivenza dell'essere umano nella città È come dire l'uomo si salva nella città Solamente se ragiona come diceva Simmel Con il cervello e non con il cuore L'individuo umano è molto razionale È molto capace È cinico Ha un atteggiamento blasé È distaccato Solo così riesce a vivere in città Solo concentrando Solo essendo anche un po' autoreferenziale Noi immaginiamo di arrivare in una città Se tutti gli stimoli che troviamo ci colpissero fortemente Ci condizionassero Allora abbiamo imparato ad avere specie di parocchi Questo è il cervello Un cervello che funziona più del cuore Però avendo questo tipo di atteggiamento Nel mondo urbano Nel mondo urbanizzato È chiaro che perdiamo di vista la relazione col creato È chiaro che perdiamo di vista la relazione con gli altri Perché la concentrazione e l'attenzione È rivolta su noi stessi E questo è l'atteggiamento che Simmel chiama blasé Aristocratico, distaccato, razionale Non c'è il trasporto del cuore Non c'è il trasporto delle emozioni Ci si abbandona sempre meno questi È un atteggiamento di tipo sempre più controllato Questo fa sì che i legami che noi abbiamo Con il creato, con la natura Ma anche con gli altri esseri umani È un tipo di rapporto che rinuncia un po' alla spontaneità Questo è tipico della città E questo è tipico della moltiplicazione Dell'intensità delle relazioni E dei contatti che abbiamo con gli altri Sempre più contatti Ma sempre più deboli Ecco, dal quadro che si sta delineando Sembra che comunque l'uomo sia fortemente determinato Dall'ambiente che frequenta Più che viceversa Per cui l'uomo che potere ha Come può intervenire? Se può cambiare anche un po' le cose Recuperare anche il contatto con la natura E con chi lo circonda Per cui metterci ancora un po' di umanità e di cuore Oltre che al cervello Beh, questa è una sfida forte È chiaro che l'individuo naturalmente Non riesce a tenere sempre costante Questo livello di attenzione E questo livello di razionalità È evidente che ancora ha bisogno di affetti È evidente che ha bisogno ancora di ricostruire Delle micro comunità Di ripristinare dei legami forti con alcuni individui E questo è un bisogno dell'essere umano Ma è un bisogno che a un certo punto trova una fine Quando noi di nuovo abbiamo recuperato Questa dimensione di vicinanza Di prossimità con gli altri Che sono i nostri amici Che sono i nostri parenti Abbiamo di nuovo immediatamente la necessità Di fuggire ancora una volta Di scappare Di pensare a noi stessi Di essere egocentrici se vogliamo Narcisisti e quant'altro Perché è questa dimensione Dell'individualizzazione Che è tipica della postmodernità Ci spinge sì a ricostruire legami Con la natura, la collettività Ma per periodi limitati Poi trionfano in noi molto Le dimensioni razionali, individuali Il calcolo se vogliamo Ripeto, non vorrei citare troppo simile Ma questo è tipico della dimensione urbana Nella dimensione rurale Valevano molto di più gli affetti Valevano molto di più pochi legami ma forti Valeva la dimensione persino del baratto Che è una dimensione fondata sulla reciprocità E sulla fiducia Quindi anche sul lasciarsi andare Nel tipo di relazione Oggi invece qualsiasi tipo di relazione Che noi abbiamo con gli altri È mediata dal denaro Della città È mediata dall'offerta di una prestazione A cui viene offerta in cambio qualcosa d'altro Che è appunto il denaro Simmen insiste molto sul denaro Sulla società del denaro Che razionalizza molto Mentre quella del baratto E quella antica E quella rurale Era un tipo di relazione Che si basava anche sull'affetto La reciprocità La fiducia La conoscenza Sulla scorta di queste considerazioni Ma anche sulla conoscenza Sull'analisi Un po' dell'agire umano Collettivo in particolare Perché è legato alla sociologia Se lei guarda avanti Che spiraglio vede Cioè intravede una possibilità Di recuperare una vivibilità attiva Delle città Degli ambienti Insomma diciamo C'è una teoria che dice Che sostanzialmente L'uomo si sta esercitando A convivere con questo tipo di tensione A tenere insieme Questi due aspetti Una ricerca molto razionale Individualistica Fondata A punti tipo Se vogliamo Più materiale E l'altra Questa dimensione Più immateriale Delle relazioni forti Robuste Dell'affettività Sta imparando Sempre di più A tenere A convivere Su questi due piani Senza creare Una scissione netta Questo vale per ciascuno di noi Nella nostra quotidianità Nel senso che siamo chiamati Sempre più a avere responsabilità A decidere cosa fare A calcolare Ad avere strategie Ad agire nel modo giusto Questo è pesante però Tutti i giorni Dover fare la decisione giusta Prendere la decisione giusta E dall'altro però È evidente Che noi Nello stesso tempo Non rinunciamo A quell'altro aspetto Quell'altra parte Della nostra vita Che è quella Della relazione Dell'abbandono Nel senso Abbandonarsi I sentimenti Finalmente Quindi l'uomo Chiamiamolo Che si sta formando Nella società postmoderna È un individuo Che sarà Sempre più In grado Di tenere insieme Queste due parti Io non sono Completamente pessimista Nel dire che l'uomo Vivrà da solo Sarà sempre più individualizzato Fa parte della sua natura Recuperare I contatti E le relazioni Con gli altri Ma è un percorso È un processo Emancipatorio Difficile Grazie a tutti Grazie a tutti